buongiorno buongiorno a tutti carissimi bentornati in questo spazio ma non so se avete notato ci troviamo addirittura sulla sette di gilettia non è l'arena infatti ieri 6 novembre 2022 dopo due ore e 44 di trasmissione hanno mandato in onda un pezzo una specie di macedonia senza capo né coda durante la quale apparivo per fortuna apparivo almeno in ottima compagnia ho visto che c'era la balanzoni silver nervuti la de mari povia suonava addirittura quindi io direi che è stato il momento top della trasmissione dopo due ore e 44 minuti ho visto i primi i cinque minuti che precedevano questo momento e c'era pregliasco se non sbaglio che rispondeva delle cose piuttosto confuse in modo molto aggressivo a paragone ecco dopo appare questa macedonia io direi che almeno un po di colore l'abbiamo da un po di aria fresca l'abbiamo trasmessa il fatto è che ringrazio giletti e grazie grazie per questa apparizione senza capo né coda e a chi ha fatto il montaggio il fatto è che non passa nulla non c'è nessun concetto presenta questo a questa macedonia dicendo sentiamo cosa pensano i novax e ancora questa storia novax io non sono un novax vabbè non ce la faranno mai sentiamo cosa pensano i novax del reintegro dei medici sospesi si capisce niente è tutta una sceneggiata allora io vi manderei questi due minuti sperando che non mi blocchino il video perché violo il copyright al massimo sono loro che dovevano chiedere a me quindi vedete un po voi e poi vorrei dire due parole per voi è perché è anche vero che questo video i frammenti di quel mio video sono andati a prenderli addirittura da telegram perché l'ho pubblicato solo su telegram quindi vuol dire che magari qualcuno un po mi segue e non dico sulla questione inoculazione eccetera ma magari su questioni più filosofiche e psicologiche magari trovano anche qualcosa di utile interessante mai si sa comunque vai con la macedonia vai la commissione d'inchiesta farà il suo corso spero se la faranno il governo meloni però di fatto è deciso di anticipare il rientro dei medici novax sul web abbiamo ascoltato c'è anche una ragazza che sta una donna che sta per entrare dietro nel nostro backstage abbiamo ascoltato cosa pensano i sostenitori quelli che hanno lottato come stramezzi amici e gianluigi paragone contro sistema guardate noi medici sospesi stiamo per essere reintegrati reintegrati se tu sei l'esperto io sono l'inesperto è stato però giustamente chiesto che ci mettiamo una qualche spilla in maniera da poter essere identificati tu chiettori in corsia non ti sia vaccinato dimmi tu una targhetta perché tu non sai non hai diritto di fare il medico non sei un vero medico se a voi non va bene vorrà dire che se siete in tempo cambierete ospedale se non siete in tempo amen amen e quindi già me li vedo morenti al pronto soccorso scusi ma lei è novax? no perché se lei è novax io non mi faccio curare quindi preferisco morire e se si farà in tempo vi si darà qualcuno vostro simile in qualche disadattato come voi oppure morirete io mi sto facendo fare una spilla di 20 centimetri per 10 è una roba così è in effetti un cartello su cui c'è scritto zero dose l'odio l'odio che certe persone vogliono creare tra la gente non sapevate non sapete un bene amato il medico non vax vi curerà anche se siete idiota e come ci stai adabbiamo noi siamo ancora qui stanno diventando letteralmente vomitevoli siamo il loro problema più grande bene con grande amore ho finito potete pure censurare questo video e potete anche andare allora prima cosa carissimi i tre frammentini che hanno preso dal mio canale era un mio video in risposta a due minuti di terrore due minuti veramente che mi hanno lasciato l'amaro in bocca grande tristezza visti durante la trasmissione che tempo che fa dove fazio sghignazzava con floris dicendo e poi c'era una terza persona che nemmeno so chi fosse allora fazio e floris sghignazzavano e sfottevano i medici reintegrati dicendo io ho il diritto voglio sapere se il medico che ho di fronte è un novax e se crede floris dice voglio sapere se crede perlomeno nell'aspirina e nella tachipirina ecco nel mio video dicevo floris stai attento perché credere nella tachipirina è un male bisogna sapere cosa fa la tachipirina e lasciare le persone in vigile attesa con la tachipirina è stato un errore ormai a detta plenaria direi di tutti ho pubblicato in quel video i tantissimi articoli che sono stati pubblicati su anche i principali giornali della nostra nazione dove si diceva e si dice che utilizzando antinfiammatori si evitano il 90% delle ospedalizzazioni e vi ricordate che il governo precedente è stato con la tachipirina e la vigile attesa sino all'ultimo secondo coloro che hanno fatto una battaglia a tutto campo per intervenire in modo rapido precoce sono stati quei medici non dico novax perché c'erano anche e non vuol dire un cavolo novax non dico coloro che non hanno fatto il vaccino dico quei medici che sono stati definiti poi antiscienza ed erano medici sia vaccinati che non vaccinati che poi assieme si sono accorti che bisognava bisognava intervenire in altro modo e le tv facendo queste macedonie dove niente si capisce poi si parlano sopra offese cose veramente tristi non mettono a fuoco i punti fondamentali gli errori macroscopici che ci sono stati e che ci sono stati poi vorrei tornare su i novax io ho sempre detto che al massimo se proprio volete usare le etichettine come i bambini all'asilo dovreste definirmi no questo vax per me no questo vax per me infatti ho dei carissimi amici e parenti con cui abbiamo discusso tutto perché siamo persone civili e decenti e dotati di un minimo di razziocinio che hanno scelto di vaccinarsi io ho scelto di non percorrere questa strada abbiamo riflettuto sulle terapie precoci sulla vigilattesa la tachipirina ci siamo trovati d'accordo su molte cose e poi alcuni dei miei più cari amici hanno scelto di fare questa di percorrere questa strada si sono fermati oltretutto vi devo dire tutti non sono andati oltre la terza inoculazione e però non ci siamo mai offesi non ci siamo c'è non lo so la in quelle trasmissioni si è visto il peggio del peggio del peggio quindi ribadisco per me solo per me no questa strada ho dato motivazioni ho fatto il mio lavoro che è di riflessione filosofico critico poi devo dire che di 800 video pubblicati sui miei canali quelli che hanno trattato questi aspetti sono decisamente minoritari però dopo sapete ridurre tutto dentro una macro categoria fasulla è utile a non far ragionare a condizionare le persone non so più come dirlo altra cosa che analizzavo in quel video allora fazio e floris straparlavano senza senso un medico che non si è vaccinato vorrei sapere se crede nella tachipirina è proprio un errore una cosa gravissima questa cosa questa cosa che è stata anche portata avanti con una irrazionalità terrificante e loro continuano a ribadirla è incredibile e poi il terzo l'ignoto che c'era addirittura chiude dicendo che coloro che non si sono inoculati i medici che hanno fatto questa scelta hanno dei morti sulla coscienza credo che sia una cosa terrificante non voglio aggiungere altre parole perché come ho detto in quel video medici che hanno scelto di inocularsi e di non inocularsi hanno continuato a indagare hanno cercato strade terapie hanno fatto di tutto per salvare le persone quindi la distinzione non è fra medici vaccinati non vaccinati la distinzione tra chi ha fatto danni e chi ha fatto del bene è fra chi ha avuto coraggio ha tenuto la mente il cuore aperti e chi invece ha eseguito qualunque cosa senza ragionare e anzi ha diffuso odio e questo è il punto io non aggiungo null'altro spero che il buon senso della ragione si diffondano sempre più che torniamo un po umani a ragionare e niente ringraziamo giletti per questa macedonia che non lo so spero che a loro sia piaciuta un abbraccio a tutti i ragazzi noi ci vediamo venerdì mattina con la rubrica una settimana d'ordinaria follia e vediamo se magari anche quella finisce in un'altra macedonia credo che la cosa più devastante sarebbe prendere un mio bel video anche quello lì che hanno preso tre pezzettini 30 secondi fatelo vedere intero durava solo 89 minuti provate a farlo vedere intero vediamo un po come va a finire un abbraccio ciao a tutti